Maggi ciao amici finalmente è ora di chiudere il concorso MaggiColo deve andare al Quecon 2018 lavorare con Y8 e vince ovviamente Y8 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 perché gli ultimi saranno i primi e primi saranno gli ultimi quindi Quecon 2018 con 45 per cento si dovrà levare dalle scatole MaggiColo un 23 per cento una buona media ma incredibile che vi suonottano è stato scartato mi dispiace perché è il migliore ma ragazzi non vi preoccupate perché io parteciperò al Quecon 2018 e adesso mi vado un po' allenare su Quecon 2018 visto che sono un programma cioè no scusate cos'è sta cosa non avete visto niente giusto e niente Grazie